Consigli sarcastici dello scrittore keniano Wainaina per chi scrive di Africa Mai mettere in copertina la foto di un africano ben vestito e in salute Usate immagini di Kalashnikov, seni nudi, costole sporgenti soggetti da evitare, la vita domestica normale l'amore tra africani a meno che non finisca in tragedia bambini scolarizzati Quando parlate dello sfruttamento accusate l'Occidente per la situazione del continente africano trattate sempre l'Africa come fosse un paese solo Ecco, la nostra puntata questa sera sarà dedicata all'Africa un continente di 54 paesi diversi e quasi un miliardo e mezzo di persone A tra poco, dopo la pubblicità A tra poco, dopo la pubblicità Buonasera e bentornati a inchieste da fermo La puntata di stasera è dedicata al continente africano Lo abbiamo anticipato con le parole sarcastiche dello scrittore keniano Wainaina Ma le voci più lucide della cultura africana ce lo dicono da qualche tempo che dobbiamo smetterla di usare quel continente come oggetto di compassione, pietà autocolpevolizzazione Tutti atteggiamenti profondamente eurocentrici Vorrei iniziare con la storia di un incontro fatto di ascolto e collaborazione quello fra uno dei massimi geni creativi italiani e la cultura africana Renzo Piano ha costruito in Uganda un ospedale per emergency Lo ha fatto immergendosi nella cultura locale Gli ho chiesto di raccontarci come tutto è iniziato Ascoltiamolo Mi chiama un giorno, tanti anni fa ormai Gino Strada qui a Parigi e mi dice Renzo, tu mi devi costruire in Uganda sul lago Vittoria un ospedale scandalosamente bello Scandalosamente bello Ecco, io in vita mia non avevo mai avuto un brief un programma così semplice Poi quando io andai sul posto Allora lì avvenne una cosa miracolosa Io lo trovai sulle sponde del lago Vittoria Lì siamo a 1200 metri Quindi è un luogo adatto a un ospedale Scoprì una cosa Che quel terreno è un'argilla fantastica Lo ho preso in mano Mi ha miso un pochettino Sul palmo della mano di Gino Lui con l'altro dito La girò un po' così sulla mano E poi mi guardò e mi disse Bello Ecco Ecco che bello saltava fuori il no Bene, perché parlo di questo? Perché Perché questo fatto di Di agganciarsi al terreno È importante È importante perché poi Nel momento da lì è nato Un rapporto con Con la gente Un rapporto con le Con le persone Cioè L'ospedale nasceva lì Per insegnare lì Insegnare lì Insegnare i medici Agli infermieri Però allora io mi risupito in testa Di insegnare anche a costruire La terra africana Come punto di partenza Adesso sentiamo il seguito Partendo da un'antica tecnica Che è quella di usare la terra In Africa Che è il Pisei Ebbene non mi accontentai Quindi cominciamo a lavorare Con dei bravissimi chimici Tecnici Quindi portando con noi Qualcosa che aiutasse A fare meglio le cose E quindi Facciamo un sistema costruttivo Per i muri Molto efficace I muri sono di 60 cm di spessore Usando il materiale a metro zero Perché il terreno stesso Però mettendo gli additivi giusti Quella piccola quantità di cemento Di additivi Che faceva sì Che l'operazione diventava Molto più attuale Attualizzata Diciamo così Ecco questa idea Di portare con sé Quello che puoi portare di meglio Da tutto il punto di vista Medico Da tutto il punto di vista Costruttivo E poi costruire in maniera Che quello che fai Diventa educativo Cioè resta Lascia tracce Insomma la vecchia storia Che tu non regali i pesci Mi insegna pescare Questa è la cosa fondamentale Quindi questa vecchia storia Aiutiamo la casa loro Beh sì È una goccia Questa esperienza è stata una goccia Ma una goccia importantissima Quindi argilla e pisè Un'antica tecnica costruttiva Locale Al servizio di un contenuto Modernissimo Come un ospedale pediatrico Non sono le risorse Che mancano al continente africano Lo sappiamo Ma nemmeno il know-how Il talento E questo lo scopriremo Insieme stasera Ci vediamo tra 60 secondi esatti Intornati Il nostro viaggio nel continente africano Comincia dalle mappe Una cartina per capire quanto è grande l'Africa Sì ecco ci abbiamo infilato dentro Altre parti del mondo Vedete l'Africa è più grande di Stati Uniti Cina e Europa messe insieme Seconda solo all'Asia come dimensioni È anche l'area più diversificata del pianeta Per il numero di etnie e lingue 2000 Sul piano demografico L'Africa ha tre record Tre primati La popolazione che cresce di più La popolazione più giovane E la popolazione che si sta urbanizzando più rapidamente Questo è un fatto molto positivo Vedremo perché Dal punto di vista economico La sua performance è molto meno brillante E tuttavia Poiché partiva da livelli bassi I consumatori africani oggi sono quelli Il cui potere di acquisto Sta crescendo più velocemente All'inizio del millennio Il settimanale inglese The Economist Dedicò una copertina Allo hopeless continent Cioè il continente senza speranza Ecco, i media occidentali e il loro pubblico Sono interessati all'Africa a una condizione Che sia associata a conflitti Guerre civili Bambini soldato Miseria Terrorismo Carestie Siccità Pandemie Migranti Le buone notizie dall'Africa non ci interessano I segnali di sviluppo Di modernizzazione Vanno ignorati Perché contraddicono La nostra narrazione preferita L'apocalisse africana O afrocalisse Io ho ricordato Quella copertina Dell'Economist Hopeless continent Perché Quell'espressione Senza speranza Rievoca Un precedente importante Pier Paolo Pasolini Nel reso conto Di un suo viaggio In India Negli anni Sessanta Pasolini aveva usato La stessa identica espressione A proposito dell'India L'aveva definita Una nazione Senza speranza E lo sembrava davvero L'India degli anni Sessanta Invece Era Alla vigilia Di cambiamenti Meravigliosi Tra cui Una modernizzazione Della sua agricoltura Che le avrebbe dato L'autosufficienza alimentare E tante altre novità Tra cui L'ascesa Della Silicon Valley La tecnologia indiana Perché Il miracolo Che sembrava Del tutto impossibile Nell'India Di mezzo secolo fa E invece è successo Perché non potrebbe essere Replicato Dall'Africa Quando parliamo Dell'America Della Cina Dell'Europa Noi riusciamo A conciliare Aspetti positivi E negativi Progressi E regressi Qualità E difetti La domanda Io la voglio rivolgere A uno dei nostri ospiti Di stasera Mario Giro Politologo Già Vice Ministro Degli Esteri Già responsabile Affari internazionali Per la comunità Di Sant'Egidio E un grande esperto Dell'Africa Ecco Riusciremo mai Ad avere 50 sfumature Di grigio Quando parliamo Dell'Africa Mario? Lo spero Lo spero vivamente Dovremmo uscire Dagli stereotipi Dobbiamo uscire Dagli stereotipi Di noi europei In particolare Occidentali In generale Che guardiamo L'Africa Da un po' Dal buco Della serratura L'Africa È molto cambiata In particolare In questi vent'anni È più globalizzata Anche a causa Delle lingue I giovani Sono più globalizzati Dai nostri Parlano continuamente Con i giovani Del mondo Si scambiano L'Africa Ha avuto Dei grandissimi Successi Ultimamente Economici In alcuni paesi Ma Anche all'inizio Delle indipendenze L'Africa Ha avuto Dei grandi successi Per esempio L'alfabetizzazione Di massa Gli africani Negli anni 60 All'inizio Di quel decennio Erano alfabetizzati Per il 10% In dieci anni Coprono L'alfabetizzazione Quasi al 100% Questo è un grandissimo successo Che poi È venuto meno Con la destrutturazione Del sistema scolastico Che adesso si privatizza E questa è l'Africa nuova di oggi Un'Africa più privata Un'Africa più intraprendente Un'Africa molto protagonista Anche perché è più giovane Quindi un continente giovane Che vuole riuscire Intraprende Scommette su se stesso Anche al limite Per esempio Vediamo le migrazioni La scommessa Sulla propria vita Voler uscire Scommettendo Su quello che hai E questo Ha creato E sta creando Sicuramente Quello che tu dici E cioè Quel miracolo Quel cambiamento Che c'è stato per l'India Ci sarà anche per l'Africa È già in cammino E l'Europa È un po' Una vecchia matrigna Che guarda da lontano Pensando tanto L'Africa tornerà dove stava E no Noi siamo più indietro Grazie Mario Giro Lo hai già accennato Per molti in Italia L'Africa è una cosa sola Il luogo dal quale Arriveranno ondate Di migranti Sempre più immense La pressione migratoria Esiste È un dato reale Però dobbiamo smetterla Di descriverla Come una calamità Irresistibile Irrefrenabile E per di più Esagerandone le dimensioni Dando le proporzioni Bibliche Quando qualcuno Vaneggia Sui nostri media Di un miliardo Di migranti Dall'Africa Non sa di cosa parla Perché Confonde Migrazioni Verso l'estero E migrazioni interne Che sono le più importanti Quelle legate al fenomeno Della urbanizzazione La maggior parte Dei migranti Africani Si sposta All'interno Del continente Da un paese africano A un altro paese africano O all'interno Degli stessi paesi africani Prima di tutto Per migliorare La propria condizione economica E questo Lo possiamo vedere Da un'altra cartina Ecco qua Flussi migratori Il totale migranti 52% La maggioranza Dei migranti Dall'Africa Rimane in Africa Ma è ancora più alto Se noi andiamo a vedere L'Africa sub-sahariana Qui addirittura È il 70% Dei migranti Che si sposta Verso altri paesi Sempre africani Vorrei vedere ancora Un'altra cartina Questa volta Con le città Ecco questo Questo è interessantissimo Cioè noi Spesso Nei nostri stereotipi Pregiudizi E luoghi comuni Datati Immaginiamo L'Africa Come un continente Di campagne Un continente Di contadini No È un continente Sempre più urbano Con grandissime città Quelle Le palle Che vedete Le sfere Sono le città Che stanno crescendo Perché attirano Appunto Migranti Dalle campagne Sono città enormi Come ovviamente Lagos In Nigeria Addis Abeba Johannesburg E tante altre Il Cairo Dunque il fenomeno Che cambierà Il volto Al continente Nei prossimi decenni È sicuramente L'inurbamento O urbanizzazione E qui La scolarizzazione E l'urbanizzazione Insieme Stanno riducendo La natalità Succede nel continente Africano Quello che era Già accaduto In Asia L'urbanizzazione È un surrogato Anche quando E soprattutto Quello che è importante Sono le ragazze Naturalmente Più le ragazze Vanno a scuola Meno fanno figli Più si trasferiscono Dalle campagne Alle città Meno fanno figli Qualche commento A tutte queste carte Mappe E statistiche Mario Giro Ma la cosa più importante L'hai fatta vedere Questo inurbamento Quest'urbanizzazione Di una popolazione Giovane Questo ha provocato La globalizzazione Processi endogeni È un grande cambiamento Un cambiamento Antropologico Umano I giovani africani Oggi sono diversi Ai loro padri Sono più individualisti Più intraprendenti Vogliono fare business E in fondo Vogliono investire E vogliono cambiare I loro paesi In maniera diversa Dei loro padri Sono finiti i sogni collettivi È un fatto Pan-africanismo Socialismo africano Unità africana Nazionalismo africano Sono falliti E i giovani Lo sentono E allora Si aggregano in città Al di fuori Dalle etnie tradizionali Non hanno più tanto Fiducia nello Stato Molti Stati Hanno dimostrato La loro Poca capacità Di futuro E cercano Da soli Come protagonisti Insieme Come generazione È una specie Di 68 africano È una rivoluzione Dell'io Una grande rivoluzione Dell'io Che sta coinvolgendo Però il 70% Del continente Perché Questa è anche La nostra difficoltà A leggere il fenomeno Noi siamo Un continente Di vecchi E quindi Vediamo questi ragazzi E un po' Ci spaventano Come i vecchi Guardano i giovani E li vediamo Fare delle cose Che noi non faremo È certo È un'altra età Un'altra generazione E questa dinamicità Chiaramente Va letta Per quello che è Per la grande forza Che propone E la grande inventività E noi ci dobbiamo Aspettare Tante sorprese Grazie Mario Estraggo Dalle tante cose Interessanti Che hai detto Un paio di elementi Uno Che l'urbanizzazione Non è soltanto Un fenomeno Sociale Demografico Geografico Economico Ma c'è anche Un cambiamento Di valori Di cultura Quando si passa Dalle campagne Alle città E l'altro Hai evocato Storie di successo Per fortuna Ne abbiamo tante Anche qui in studio E ne parleremo Il 2023 È stato un anno Chiave Per l'Africa Perché ha visto Una sorta di Riscoperta mondiale Dell'Africa Come oggetto Del desiderio Di tutti gli altri Io avendola Girata molto Ne ho visti Tanti Di altri Soggetti Geopolitici Mondiali Che lì Si affacciano Sono presenti Piccole e grandi potenze Occidentali E orientali C'è l'America Che sta cercando Di contendere Alla Cina L'influenza Sull'Africa Ma c'è la Russia Presente soprattutto Sotto la dimensione Militare C'è la Francia In difficoltà In ritirata Però ancora presente Il mondo Indiano Le imprese indiane Soprattutto nell'Africa Orientale Sono onnipresenti C'è l'Arabia Saudita Gli Emirati Arabi Che investono Moltissimo In Africa Sono davvero tanti In questo momento Ad affollare L'Africa E per tante ragioni L'Africa è ricca Di risorse naturali Si stima Che abbia Almeno il 30% Di tutte Quelle materie prime Che saranno Indispensabili Per la transizione Verso un'economia Sostenibile Quindi non più carbonica L'Africa È ricca di minerali È ricca anche Dal punto di vista agricolo Ecco Nei nostri stereotipi Spesso l'Africa La equipariamo A deserto e siccità No Gran parte dell'Africa È fertilissima Ed è verdissima Ora Aggiungiamo questo Che spiega Anche l'affollamento Dell'Africa È un mercato In espansione The Economist Intelligence Unit Stima Che quest'anno L'Africa Sarà la seconda area Più dinamica Del pianeta Con 12 Tra le 20 nazioni A maggiore Crescita economica Ci sono Vi do questo esempio 400 milioni Di consumatori africani Che ogni giorno Pagano con il telefonino Quindi sono molto più evoluti Degli italiani Come sistemi Di pagamento digitali Aggiungo Che queste app Digitali Per il pagamento Sono tutte state inventate Da imprenditori africani Quindi c'è un talento Imprenditoriale Locale Che guida La modernizzazione Ancora un dato Su cui riflettere La classe media Africana Che ha un potere D'acquisto Con degli standard Internazionali Raggiunge Ormai La dimensione Di 330 milioni Di persone Sono pochi Rispetto alla popolazione Del continente Sono solo un quarto Degli africani Che hanno questo potere D'acquisto Ma 330 milioni Sono gli abitanti Degli Stati Uniti E quindi non è poco E questo spiega Perché ogni tanto Sentiamo parlare Di una nuova Corsa all'Africa Su questo Ho interrogato Un intellettuale africano Che a me piace moltissimo Un esperto dell'Africa Che vive negli Stati Uniti Nigeriano Ebenezer Obadare Che lavora Al Council of Foreign Relations Di Washington Sentiamolo La parola Nuovo Qui È estremamente Importante Perché presuppone Giustamente Che ci sia stata Una precedente Corsa all'Africa E la precedente Corsa È storicamente Accertata Riguarda Ciò che accadde Tra le potenze Europee Le decisioni Che presero A Berlino Nel 1884 85 Suddividendo L'Africa E decidendo Poi cosa fare Dei rispettivi Protettorati Che si erano Assegnati Il problema Di una nuova Corsa È che di base Tratta la storia In termini Di parallelismi Perché Gli europei Sono stati Coinvolti In Africa Alla fine Del XIX secolo E sono coinvolti Adesso Come gli africani Non avevano Alcun potere All'epoca Allo stesso modo Non hanno Alcun potere Adesso Credo Che questa Concettualizzazione Congeli La storia africana In sostanza Presuppone Che non sia Successo Nulla Nella storia africana Nella politica africana Nella vita sociale Africana A partire Da più di cento Anni fa Ma è molto sottile Il messaggio Però è preciso Cioè Ebenezer Obadare Accusa Noi europei Di voler Fissare L'Africa In un periodo Della sua storia E vogliamo Che l'Africa Sia condannata A ripetere Quel periodo lì Mentre invece Siamo In un mondo Molto diverso E con un'Africa Molto diversa Oggi Senza dubbio Questo continente È una posta In gioco Nella divisione Del pianeta In aree Di influenza Geopolitiche Vi ricordo Un dato L'anno scorso Ha fatto scalpore Il vertice Dei BRICS BRICS È quel club Di potenze emergenti È un acronimo Le iniziali Stanno per Brasile Russia India Cina E Sudafrica Ecco Suppressione Della Cina Il club Dei BRICS Si è allargato E ha incluso Dei nuovi membri Tra cui Due nazioni africane Egitto Etiopia Tutte nazioni Tra l'altro Dove sono tornato Di recente I BRICS Si candidano A diventare Un club Geopolitico In opposizione All'occidente Anti-occidentale Con una guida cinese Almeno questa È la La visione Il progetto Di Pechino Ma l'Africa Sta aumentando Il suo peso E la sua rappresentanza Questo che chiamiamo Anche il grande Sud globale Per opposizione Al nord Che saremo noi Vi ricordo Che l'Africa Gran parte Dell'Africa Non ha aderito Alle nostre Sanzioni Contro Putin Dopo l'invasione Dell'Ucraina Che molti Governi africani Criticano Le nostre Forniture Di armi All'Ucraina E soprattutto Contestano Che l'Occidente Non condanni Israele Per quello Che sta accadendo Nei territori Occupati Di Cisgiordania O a Gaza Il tema Gaza È diventato Un acceleratore Della Ostilità Di molti paesi Africani Nei nostri confronti Dell'Occidente Del grande nord Chiamiamolo così Il popolo Palestinese È considerato Come un fratello Un popolo Vittima Della stessa Oppressione Da parte Dei bianchi Perché Israele In qualche modo Ha ragione E' una torta E' assimilato Con l'Occidente Ed è stato Non a caso Il Sudafrica Il governo Sudafricano A trascinare Israele Davanti alla Corte Internazionale Con l'accusa Di genocidio A Gaza La vecchia Retorica Anti-Occidentale Sta tornando Un po' Come nella Prima Guerra Fredda Su questo Voglio sentire Un esperto Di geopolitica Dario Fabri Giornalista Autore del libro Geopolitica Umana Dario Come si stanno Muovendo I paesi africani Sulla scena Mondiale In questo momento Diciamo che In questo momento Si muovono Senza un vero Polo di aggregazione Autottona Così a spanna Abbiamo L'Africa Centro-Occidentale Che adesso Vede soprattutto La penetrazione Russa Ai danni Di quella francese Negli ultimi anni In Burkina Faso Anziché in Mali Repubblica Centro-Africana Ultimissimo il Niger La scorsa estate E sembra Il Senegal Possa seguire Questa scia I russi Stanno scalzando I francesi In questi paesi Se andiamo invece Verso il corno d'Africa Sono molto attivi In senso geopolitico I turchi Che sono diventati Sorta di potenza Coloniale Imperiale Sulla scia ottomana In Somalia In Somalia La Turchia Ha la più grande Sua base All'estero Che è una base immensa Si chiama Turk Som E poi a puntinare Il continente Cinesi e americani Che troviamo Pressoché Ovunque I cinesi Attivissimi Soprattutto per estrarre risorse Quindi l'uranio Nel Benin Così per fare degli esempi sparsi Il litio In Mali Sappiamo quanto conti il litio Nelle nuove Tecnologie E potremmo proseguire Gli americani hanno La più grande base Di droni Del pianeta In Niger Ad Agadès Hanno oltre mille militari Da quelle parti Hanno 12 basi ufficiali Nel continente E più alcune Certamente informali Ma quali sono i paesi Dell'Africa Che invece hanno Una loro influenza Che possa andare Oltre il continente Io ne individuerei Tre Uno è il più grande Paese arabo Del mondo Che è l'Egitto Sebbene sia un paese Estremamente fragile Sia sul piano economico Che sulla sua collocazione Geopolitica Anche se balla su più tavoli Ma vive in larga parte Sebbene abbia immense risorse Con l'aiuto Dell'Arabia Saudita Più seriamente C'è l'Etiopia Altro paese fragile Ma che ha un'idea Imperiale di sé Antichissima È un paese Nella sua maggioranza Cristiano-ortodosso Quindi autocefalo Autoreferenziale L'Italia ci sbattì il muso Noi giocavamo a fare l'impero Tra il 1935 e il 1936 L'Etiopia era Un impero sofisticatissimo E ci sbattemmo il muso L'Etiopia adesso Si sta guadagnando Uno sbocco al mare Ho appena ottenuto Un accordo con il Somaliland Che è questo stato informale Non riconosciuto Per affacciarsi sul Golfo d'Aden E da ultimo Lo citavi tu Il Sudafrica Che è paese diverso Per eccellenza del continente Perché ha una matrice Stranota Anglosassone Prima Boera Quindi Di discendenza olandese Poi anche Inglese e britannica E che oggi Unico paese anglosassone Del pianeta Almeno in una sua minoranza Tifa Russia Apertamente Nella guerra d'Ucraina E ha portato Israele Davanti alla Corte Internazionale Di Giustizia Con l'accusa Di genocidio Questi tre paesi A mio avviso Sono i tre Che puntano ad avere Quindi Egitto Etiopia Più il Sudafrica Sono i tre paesi A mio avviso Che hanno una visione Geopolitica Che può trascendere Il continente Il continente è fatto Come tutti i continenti Del pianeta Di influenze reciproche Anche le une Contro le altre Grazie Dario Tornerò da te Intanto voglio Soffermarmi Un attimo Sul tema Cina La Cina è molto abile In Africa Perché Da una parte È la Campionessa Nello sfruttare Quelle affinità Elettive Di tipo politico Geopolitico Che dicevo prima Cioè Si presenta Come un altro Paese emergente Come le nazioni Africane Che sta dalla loro Parte Contro L'Occidente Capitalista Colonialista Imperialista Dall'altra parte La Cina È Per molti paesi Africani Il primo partner Commerciale Il primo investitore Ed è diventata La banchiera Il creditore Di molti paesi Africani Pur continuando A presentarsi Come Una Una sorella Alla pari Con loro Contro L'avido Capitalismo Occidentale In realtà Ci sono Tante forme Di presenza Cinese C'è un Capitalismo Di Stato Quello Che viene Gestito Da Pechino La longa Manus Del governo Cinese Grandi Contratti Pubblici Grandi Opere Pubbliche Infrastrutture Autostrade Porti Aeroporti Centrali Elettriche Poi c'è Un'altra Cina In Africa E questa È completamente Diversa È un Milione Di Imprenditori Cinesi A volte Piccoli Imprenditori Che sono Andati Alla conquista Del loro Far West Con uno Spirito Pionieristico È molto Molto Diverso Noi occidentali Di questa L'invasione Cinese Cinese Vediamo Solo L'aspetto Più Orrendo Sfruttamento Razzismo Abusi Contro i Lavoratori Locali Distruzione Dell'ambiente Perdiamo In questo Modo Una Prospettiva Storica Che Invece Molti Africani Preferiscono E cioè Se la Cina Riuscisse A Esportare Il suo Modello Di Sviluppo Sul Loro Continente L'Africa Avrà Svoltato Sarà Il momento Della Industrializzazione Dell'Africa Come è accaduto In Cina Dove Lo sviluppo Economico Ha sollevato Dalla miseria Un miliardo Di persone Esiste Una ricetta Alternativa A quella Cinese In Africa Forse Esiste Forse Dovremmo Portarcelo A noi Ma noi Ci guardiamo Bene Dal farlo Noi Siamo Bloccati Dai nostri Complessi Di colpa Le nostre Imprese Quando Si avventurano In Africa Ci hanno Immediatamente Addosso Fucili Puntati Dalle nostre ONG I media La magistratura I nostri Ambientalisti Già sotto accusa Un processo Preventivo Quando Un'impresa Occidentale Va in Africa Sta facendo Neocolonialismo E saccheggio Di risorse E questo Diventa Un deterrente Mentre le aziende Cinesi Russe Indiane Turche Arabe Saudite Questi problemi Non ce li hanno E ci rubano Sotto il naso Fiore di contratti E sono molto più Disinvolte Di noi Mentre noi Continuiamo A recitare Un Mea culpa Che ingrassa Anziché combattere La corruzione Locale E qui veniamo Di nuovo Al mio Esperto Nigeriano Dell'Africa Ebenezer Obadar Che su questo Punto Rivolge Perfino Una critica A Papa Francesco Ha un'osservazione Da fare Sull'ultima Visita Di Papa Francesco In Congo Sentiamo Cosa ha fatto Il Papa E' andato In Africa E uno dei paesi Che ha visitato E' stata La Repubblica Democratica Del Congo E ha fatto Un discorso In cui parlava Di come Il sottosviluppo Africano Sia colpa Del colonialismo O dei colonialisti E io sono Rimasto Scioccato Da un lato Non mi ha sorpreso Perché il Papa Stava riportando Un'idea Che era già diffusa Quindi in pratica Parlava come Un normale Accademico Il motivo Per cui i paesi Africani Sono poveri E' che sono stati Colonizzati Ma pensavo Che il Papa Soprattutto visto Che si trovava Nella Repubblica Democratica Del Congo E in presenza Di una leadership Che è stata accusata Di violazione Sistematica Dei diritti umani Di repressione Dei media Di corruzione Allucinante Avrebbe taciuto Il che sarebbe Stato già Abbastanza grave O almeno Avrebbe detto Qualcosa Sulle lamentele Della gente Gente Che era fuori Dall'edificio In cui ha parlato E molti di loro Avrebbero detto Ehi Questa È la situazione Nel nostro paese E qui ci sono Le persone Che incolpiamo Per questa situazione Ho pensato Ho pensato Che il Papa Stesse portando Acqua Al mulino Della leadership Nella Repubblica Democratica Del Congo Quindi Ancora una volta Stavo attaccando Quell'idea Precisa Non La persona Del Papa Insomma Coraggioso Ora L'Italia L'Italia Come Tutti i paesi Europei Per effetto Della guerra In Ucraina Di questa tragedia Nel cuore Del nostro continente Deve effettuare Una torsione Geostrategica Verso sud Noi abbiamo avuto Un primo shock Energetico Molti di voi Studenti Non lo possono sapere Forse ve l'hanno raccontato I vostri genitori Io c'ero Le domeniche A piedi Credo che tra un po' Potremo anche vedere Ecco Questa era una foto Degli italiani In bicicletta Non avevamo più Petrolio Che arrivava Dal Medio Oriente Per Sanzionarci Per il nostro Appoggio A Israele Durante La guerra Dello Yom Kippur Un altro conflitto Medio Orientale Terribile I paesi arabi Smisero di venderci Petrolio E noi Fummo costretti A fare una Torsione Verso est Andare a cercare Energie fossili In Russia Adesso Marcia indietro L'esatto contrario Oggi È Putin Che non ci fornisce più O non vogliamo più Comprargli Il gas E quindi Dobbiamo Ritornare al sud Dobbiamo guardare Energia africana E lo stiamo facendo Ecco cosa Ci spiega Guido Brusco Direttore generale Natural Resources Di Eni Ascoltiamolo Negli ultimi Dieci anni Noi abbiamo Consolidato Le nostre relazioni Con i paesi Africani In particolare Con l'Egitto L'Angola Il Mozambico Il Congo E l'Algeria Sono paesi In cui operiamo Da diversi anni In cui lasciamo Buona parte Dell'energia Che produciamo Ai paesi Produttori Per consentire Per consentire L'accesso All'energia A paesi Che non Che non ce l'hanno E non ne hanno In abbondanza E anche Per sviluppare L'economia Locale E' una strategia Che si basa Sulla condivisione Del rischio E sulla ricerca E sulla creazione Di valore Nel lungo termine Piuttosto Che il profitto Nel breve periodo Ed è proprio Per questi motivi Che quando ci siamo Trovati in difficoltà Per le forniture Di gas A seguito Della guerra Tra la Russia E l'Ucraina Abbiamo trovato Delle porte Aperte E siamo riusciti Ad ottenere Del gas Attraverso tubo Attraverso navi Che trasportano Il gas Liquefatto Riuscendo a sostituire In brevissimo tempo In meno di due anni L'unico fornitore Di gas Che era La Russia Attraverso il tubo Con più fornitori Di gas Attraverso tubo E attraverso Navi Metaniere Riuscendo quindi A dare una risposta Alla nostra Sicurezza energetica Quindi Direi per fortuna Che c'era l'Africa Dario Fabri Il tuo parere Sul ruolo dell'Africa Nel nuovo scenario Energetico Globale Beh È un ruolo primario Senza alcun dubbio Lo è in particolare Per il nostro paese Nell'ultimo anno L'Africa è diventata Attraverso l'Algeria Il luogo Da dove arriva In senso relativo La maggioranza Del gas Che noi poi consumiamo Quaggiù O quassù L'Algeria ad esempio L'anno scorso Ha esportato Il 34% Del nostro approvvigionamento Se aggiungiamo anche I giacimenti offshore Che sviluppiamo Con l'Egitto E gli accordi Che l'Italia Sta firmando Ha firmato con l'Angola Con il Congo Con il Mozambico Ancora per il gas Questo ci dà il quadro Di un continente Che non è conteso Soltanto per ragioni Di valenza geopolitica O di risorse generiche Ma nell'energia specifica Dario Fabri Autore di Geopolitica umana Grazie di esserci venuto a trovare Grazie per l'invito La mia prospettiva Sull'Africa È influenzata dal fatto Che io vivo a New York Vicino a casa mia C'è In una parte Del quartiere di Harlem Una zona Che è stata ribattezzata Little Senegal Per via del forte afflusso Di immigrazione Soprattutto da paesi Dell'Africa Francofona E sempre vicino a casa mia C'è anche L'Africa Center Un centro culturale Molto attivo E a New York Vediamo transitare Un flusso Incessante Di talenti Dal continente africano Scrittrici Scrittori Musicisti Pittori C'è qualcosa Che sta succedendo In Africa E che spesso sfugge Ai nostri Schermi radar Perché noi In quel continente Cerchiamo Solo dei motivi Per indignarci Delle nostre malefatte Per la stessa Ragione Noi ci costringiamo A trattare Le classi dirigenti Africane Come se fossero Oggetti passivi Delle manovre Altrui Questa è La infantilizzazione Degli africani Li trattiamo Come dei bambini Poverini Non sanno Quello che fanno Ma i governi Che chiamano La divisione Wagner I mercenari russi A mettere ordine A casa loro Non corrispondono Esattamente Alla descrizione Di vittime Mario Giro Commento Rubbo un'espressione A Henry De Luca L'Africa è inespugnabile Come Napoli Lo dice per Napoli Henry De Luca L'Africa può essere occupata Da tutte le influenze Di questo mondo Ma è inespugnabile La sua resilienza È a tutta prova È finito il paternalismo Ma gli africani Sanno benissimo anche Che è finita anche Quel tipo di influenza Cinese O di altro tipo E loro sanno fare benissimo La distinzione Tra l'uno e l'altro E ci conoscono molto meglio E conoscono molto meglio I cinesi E conoscono molto meglio Gli asiatici Di quanto Noi Gli asiatici Cinesi Conoscono loro Questa è una grande Resilienza africana Nella storia E d'altra parte Quando vedono Questi nuovi arrivati Che vengono Nel continente Li guardano Sorridono E pensano Io sono 30 anni E più Che frequento Il continente E vi posso assicurare Che pensano Abbiamo resistito A molto di peggio Grazie A proposito Di approccio Positivo All'Africa Parliamone Anche Come Della culla Di una nuova Imprenditorialità Perché questa Una dimensione Veramente importante L'Africa È piena di successi Per esempio Una generazione Di stilisti Nella moda A Milano Parigi New York Artisti Nei musei D'arte contemporanea Nelle nostre sale Di concerti Ovviamente I musicisti La musica africana Ci aveva già conquistato Da tempo Nelle nostre librerie Con le sue scrittrici E scrittori Produce L'Africa Il fenomeno Nollywood Il cinema nigeriano Lagos In Nigeria Come produzione Annuale Di film È la terza Capitale mondiale Dopo Hollywood California E Bollywood India E io vi consiglio Caldamente Di prestare Un po' di attenzione Ai film Nigeriani Quelli che fanno I record Di incassi Nel grande sud globale Quei film lì Raccontano Storie Molto più allegre E divertenti Storie di ceto Medio urbano Commedie sentimentali Satire di costume Insomma Il cinema Di Nollywood Racconta Una umanità Molto più Normale Di quella Che vogliamo Vedere Noi E vediamo Un pezzo Di un trailer Preso da Uno di questi film Di Nollywood Nidria I have decided That whichever Of you boys That settles down Amari's force Will take this out Drink water Mumi Mumi Give me water now Hey hi You know I dreamt about you Last night This is quite a long time So what are you doing I'm talking to Ego Right What Yesterday I became A grandmother Isn't it time For you to be a grandmother Like all of us here But am I going to Become a grandmother I have a lady I have a special lady In my life You I'll bring her So I can introduce her To you When are you boys Going to bring the women Christmas Eh Christmas Eh Christmas Benvenuta Victoire Gulubi Pronunciato bene Sì Allora Victoire Victoire È un caso molto molto interessante Perché congolese di origine È una International Private Chef E Tanto per cominciare Come arriva in Italia Victoire Victoire Arriva in Italia Con un visto nazionale Di studio All'epoca L'Italia Rispetto a tanti paesi Dell'Occidente Quando dico l'Occidente Intendo the West Accordava Pochissimi visti Agli studenti Congolesi E quell'anno Erano stati accordati 22 visti Nazionali Per lo studio All'università A Roma Io e mio fratello Eravamo tra i 22 ragazzi Per cui eravamo arrivati Con un visto nazionale Il mio arrivo in Italia Aveva uno scopo Ben preciso Era quello di Laurearmi in giurisprudenza Trovare immediatamente Un lavoro Perché mia zia Sorella minore E mio papà Era Una delle prime donne A diventare magistrata Nella Repubblica del Congo Quindi vengo da una famiglia Di grandi studiosi Questo era il mio arrivo In Italia E poi Anziché la magistratura Un altro tipo di talento professionale È sbocciato Come arriva questa vocazione A diventare una grandissima chef? Questo non smetto di dirlo E di insegnarlo ai ragazzi Che cercano le loro strade Nella vita a volte ci sono delle bussole Spesso non riusciamo a vedere noi stessi La nostra strada Serve che ci sia una persona Che è come uno specchio Che ci indica La giusta strada da prendere Io avevo mio zio qui Che ahimè è passato Tre anni fa Molto giovane E lui mi disse Neanche tra 10, 20, 30 anni Vedrò una nera Donna Al governo Essere vicepresidente O premier in Italia O ancora meno Un grandissimo medico Conteso in tutto il mondo Lascia l'università Cercati una bellissima professione La professione deve essere La chiave Lo strumento che ti possa permettere Di andare a lavorare Ovunque nel mondo Senza dipendere da qualcuno Lasciai subito l'università di Verona E andai nella scuola alberghiera Che scelse lui Perché fosse stato per me Sarei andata a fare L'estetista E mi disse No È troppo banale Per essere un'immigrata Ti devi distinguere Però Devi chiudere la bocca Aprire gli occhi Aprire le orecchie Fare come il cocodrilo Prendi tutto il tempo possibile E quando ci sarà la tua preda Nelle tue fauci Sarei tu Il carnefice All'inizio è stato difficile Affermarsi Come donna africana In un mondo dove Credo ancora la maggioranza Sono maschi e bianchi Dall'inizio è stato molto difficile La mia carriera è stata correlata Di abusi Violenze fisiche Io ero una senza tetto Mangiavo nella patumiera del McDonald's Non potevo permettermi neanche l'assorbente Dormivo sotto Meno di 17 gradi Alla stazione di Beluno Però mi ero detta Avevo due scelte Tornare in Africa In quel momento Lì in Congo Ero venuta in Italia Dopo la guerra Che aveva Dilaniato il mio paese La Repubblica del Congo Quindi ci fu prima Il genocidio del Rwanda La guerra Nella Repubblica Democratica Del Congo Il boom petrolifero Col colpo di Stato Nella Repubblica del Congo Quindi tutte quelle guerre Lì noi le avevamo vissute E mi sono detta Tornare in Congo A mani vuote Senza niente Con i miei genitori Che avevano perso tutto I miei fratelli Che avevano perso tutto O sopravvivere qui La guerra che io avevo trovato qui Non era una guerra fisica Ed è una delle peggior guerre All'epoca per i giovani Cioè È una guerra mentale Invisibile Il sentimento La sensazione Della parola Razzismo In Africa Noi non l'abbiamo Quando uno Varca la soglia Del suo confine Va altrove E lì si confronta davvero Con la parola razzismo Quella era veramente La più grande difficoltà Però Mi sono affermata Insistendo Perché volevo che Gli chef Vedessero quello che c'era Nella mia testa Non il mio colore Non il fatto che Venivo da un altro continente Non era stato facile Perché a volte Quando andavo In alcuni ristoranti Io volevo andare a lavorare Solo nei ristoranti stellati Anche se mi dicevano Non possiamo assumere Non possiamo prendersi Per lo stage Non ci va I neri Quando entrano L'indomani ero Nello stesso posto Poi Dopo un po' Qualche chef Hanno cominciato a notarmi In cucina Mi chiamavano La gazzella All'epoca Avevamo i sopranomi E io sono diventata Chef executive Molto molto giovane Quando i colleghi Pluripremiati Hanno cominciato A chiamarmi Chef E hanno cominciato A rispettarmi Alla pari Io ho capito Che avevo vinto La sfida Una storia fantastica E vorrei ancora Aggiungere un paio Di domande Però è una storia Veramente Importante A parte i colleghi Gli altri chef Tra i clienti Le capita ancora adesso Che siano sorpresi Nello scoprire Una chef Donna africana No Per fortuna no Ora mi cercano Ora molti mi cercano Proprio Chi mi cerca Perché vuole La mia cucina Perché vuole Victoire Ma ci fu un tempo Anche nelle grandi cucine A 4 o 5 stelle Quando chiamavano Vogliamo vedere L'executive Quando uscivo io Che ero La chef Donna Poi nera Non vi dico Lo stupore Delle persone E quando Si realizzavano Che io parlavo L'italiano E magari mediamente Bene Rispetto a loro Alcuni erano ancora Molto più fesi Quindi io dicevo Basta imparare Non sono Non sarò io L'africana Ad insegnare al caucasico Le lingue Le buone maniere Siete voi Che ci avete Insegnato il mondo Siete voi Che avete disegnato Le cartine mondiali Imparate le lingue Un'ultima domanda Proprio Nel cuore Della sua disciplina E del suo talento Che tipo Di alta gastronomia È la sua? La mia cucina Rispecchia Prima La mia storia Quello che io sono Mia mamma Ha due lauree E noi quando uscivamo Dalla scuola Ci diceva Non siete nati Con le chiavi Delle auto Non siete nati Con delle carte Di credito Dovete andare Nei campi E noi siamo cresciuti Raccogliendo il cibo Nei campi Si è sempre detto Che le migliori Gastronomie Le migliori Cucine al mondo Sono quelle occidentali Io mi offendo E dico Allora tutta la ricchezza Che ha questo continente Che voi dite che è ricco di superfood Perché non se ne parla Perché non parla Allora delle nostre identità La mia cucina Parla di questo La mia cucina È lo Gianni Che è la parte Dell'innovazione Che io Ho imparato in occidente Non posso sputtare nel piatto Dove sto mangiando E dove ho mangiato Questa è la mia cucina Grazie Victoria Gulubi Storia importante Letteratura Musica Arti figurative Come la pittura E la scultura Cinema Moda Tutti questi mercati Sono investiti Da una vera e propria Invasione africana La creatività artistica Non si accompagna Per forza A un ottimismo Sul futuro Però oggi Oggi Una novità importante È questa È l'Africa A parlare Di se stessa A raccontarsi Anche con sarcasmo Feroce Come fa La giornalista Nigeriana Charity Ekezie Che Con i suoi Video su TikTok Si diverte molto A prendere in giro Gli stereotipi Più comuni Degli occidentali Sugli africani Guardiamola Filled with hippos And then We pick a hippo And insert This end of the cable Into the hippo's butt And put this other part Of the cable Into your phone Yes There's no water in Africa We drink our saliva Yeah So Cheers Africa is no longer A country Africa is a planet Next to Pluto And our capital galaxy Is Wakanda It's so easy For us to move From earth and back Thanks to our super Baboons That are very magical There's no food in Africa Because Every time we're hungry The community chief priest Sends our strongest hunters To the evil forest To go and get us food But they never make it back alive We have to depend on Eating grass And stones Every African is a zombie We are all walking dead Even as I'm talking to you right now I'm not real I passed away years ago Due to starvation So Your mom is right Yeah Adesso Vorrei sentire Da voi Commenti Domande Osservazioni Vostre testimonianze Prego Ciao Io mi chiamo Sarah Kamsu E sono una giornalista E sono fondatrice Del progetto We Africans United In questo programma Mi è stato molto interessante Sentire parlare di Africa Tanto tanto di Africa Ma di Africa spesso Non si parla mai Della sua storia Della sua lunga storia In effetti L'Africa è il continente In cui è nata la umanità Ma nel libro di scuola Io mi ricordo Almeno quando sono state A scuola da piccola Quindi alle elementari Alle media Alle superiori Che il continente africano Era sempre Riassunto In schiavitù E colonizzazione Cioè non mi ricordo Di aver studiato Altri tipi di capitoli E infatti The African Sonate Il progetto che ha creato È un progetto Che vuole far Riscoprire La storia dell'Africa Quindi non limitarsi più Su solo quei capitoli Di storia Ad esempio Quando si parla di Africa Non si parla mai Delle resistenze Che sono state Della schiavitù Quindi non si parla mai Di tutto Il fatto Ad esempio Dei Maroons Chi erano i Maroons Erano degli individui Che scappavano Della schiavitù Per creare delle comunità Quindi tutta la diaspora Che vediamo nelle Americhe È stata creata Appunto Dalla resistenza A queste schiavitù Non si parla mai Degli imperi O dell'imperatrice Ad esempio Potrei citare L'imperatrice Taitu Betul Che è stata Un'imperatrice etiope Abile stratega Che ha sconfitto Le truppe italiane Nella battaglia di Adua Nel 1896 Poi potrei dire Anche che Non si parla mai Dei personaggi Che hanno contribuito Alla nostra nazione L'Italia Come personaggi Come Giorgio Marincola Che è stato Un pugile Che durante L'epoca fascista È stato rimosso Dalla nostra storia Pure di partigiani Che hanno contribuito Alla resistenza italiana Durante appunto La seconda guerra mondiale Quindi BioAfrican Sonality È un progetto Che veramente In tre anni È riuscito a portare avanti Attraverso articoli Attraverso anche Un programma televisivo Che è stato fatto In Francia E poi diffuso In tutto il mondo Tutte queste storie Che non vengono mai raccontate Né dai libri da scuola Né anche dai media Uno dei più grandi miti Sulla storia Dell'Africa È del fatto che Non esista una storia Invece Penso che la storia africana Deve essere conosciuta di più E ci devono essere Sicuramente più piattaforme Che ne parlano Molto interessante Grazie Tra un po' tornerò Su alcuni aspetti Della storia africana Soprattutto di come Vengono manipolati Quando alcuni occidentali La vogliono reinventare Questa storia Altre testimonianze? Prego Buonasera a tutti Io sono Musamola Salì E sono ormai qua a Bologna Da circa dieci anni La cosa che io volevo fare notare Visto che stiamo parlando Dell'Africa È che molto spesso Diciamo In questi ultimi dieci anni Io vedo che la gente Che va in Africa Per safari O per qualche altro motivo Non torna Senza Finire Il suo soggiorno Pubblicando una foto Che sta aiutando Tipo un bambino Che ha fame O che ha sete Qualcosa del genere E questa cosa qua Mi tocca molto profondamente Perché l'Africa Non è più Quell'Africa Che comunque La gente si pensa Perché io A settembre Ho partecipato A un forum In Turchia A Istanbul Che è in Siria Che vedevo Pensavo di essere Diciamo Il più piccolo Che io Ho 25 anni Ma trovavo comunque Persone di 20 anni Comunque 22 anni Che hanno pagato Un biglietto di 2000 euro Per partecipare a questo forum Di 4 ore Quando vado in Africa Vedo i miei coetanei Che hanno Delle imprese Delle cose Partito solo Dall'Africa Non avendo anche Una formazione Dell'Occidente Quindi l'Africa Non è più Quell'Africa Che ha bisogno O magari è povera E così affamata Ma l'Africa Piuttosto ha bisogno Di collaborazione Grazie Ultimo messaggio Bello Bello Quello squarcio Che lei ci ha dato Sui suoi coetanei Che lei incontra In giro per il mondo E' molto interessante Ci porta proprio Alla testimonianza successiva Su L'identità Il kit Dell'imprenditore africano Oggi Ce lo ha descritto Martino Ghielmi Che è un consulente Esperto di business Con l'Africa Ascoltiamolo Io credo che Gli imprenditori africani Siano Dovani Quindi tipicamente Under 40 Visionari Perché affamati Come lo era La generazione Degli anni 50 e 60 In Europa Quindi che viene Da storie Difficili E che ha un grande Desiderio Di migliorare La realtà Sono rapidi Comunicano Non vogliono comunicare Su Whatsapp Non amano Le riunioni Infinite Vogliono incontrare I partner E sempre più Sono propositivi Stiamo proprio seguendo In questo momento Un progetto Di acquisizione Di una PMI In Italia Non posso dire Settore Da parte Di un imprenditore Dell'Africa occidentale E gli ho voluto Chiedere Il contrario Cioè I nostri imprenditori Quando vanno In Africa Hanno capito Che cos'è La nuova Africa I nostri Sentiamolo Gli errori più comuni Credo siano Innanzitutto Pensare all'Africa Come un paese Solo Quindi non Non prendersi Il tempo Sufficiente Per definire Innanzitutto Dove in Africa Poi credere Diciamo Che ci siano I selvaggi Sulle capanne Che aspettano Noi Che arriviamo Dall'Europa A salvarli Questo Secondo me È il peccato Originale Occidentale Che porta Veramente Tanti progetti Anche con le migliori Intenzioni A finire male Una domanda Per Mario Giro Torniamo Al piano Mattei Quali Opportunità Rappresenta I vari governi Hanno fatto Vari tentativi Questo governo Sta facendo Questo tentativo E gli ha dato Molta importanza Con il vertice Italia-Africa Che si è svolto Qualche tempo fa Al senato E questo è piaciuto Agli africani Perché è il momento Giusto Bisogna Trovare il modo Di confrontarsi Con gli africani Come diceva Musa prima E trovare insieme Che cosa bisogna fare E però La condizione necessaria È ascoltare Gli africani Veramente ascoltare Grazie Mario Ci vediamo Tra poco Dopo la pubblicità Ben tornati Chi da tanto tempo Frequenta l'Africa Naturalmente È il mondo Della cooperazione O delle ONG Umanitarie Su questo tema Abbiamo sentito Niccolò Govoni Fondatore Della ONG Still I Rise Candidata Tra l'altro Varie volte Al Nobel Per la pace Opera In Kenya E in Congo Offrendo Istruzione Di alta Qualità Ascoltiamo Noi in Congo Abbiamo una scuola Di emergenza Noi differenziamo Il nostro approccio In scuola internazionale Dove facciamo Il percorso AIB Facciamo il baccalaureato E la scuola di emergenza E andiamo a Installare L'una o l'altra scuola In base Proprio ai bisogni Reali Nel contesto In cui operiamo Per esempio In Congo Sono i bambini Che lavorano Nelle miniere Noi siamo A Coluesi Che chiamano La capitale mondiale Del cobalto È da dove Estraggono Il 60% Del cobalto mondiale Il cobalto è Un minerale Cruciale Per la tecnologia Perché È essenziale Per le batterie Al litio Esattamente Secondo me Come è stato Negli ultimi decenni Con l'India Per esempio Abbiamo visto Che una volta Che l'India Ha avuto La popolazione Ha avuto L'opportunità Di accedere All'istruzione E un'istruzione Di qualità Sempre più di qualità E in massa Adesso vediamo Che persone L'istruzione Economici Ma come le popolazioni Locali percepiscono Le ONG Che operano In Africa Ascontiamolo ancora Vi assicuro Che senz'altro In Congo E in Kenya C'è una sfiducia Nei confronti Delle organizzazioni Umanitarie Da parte Della gente Del luogo Che è Giustificatissima E dilagante Dilagante Quando noi siamo andati In Congo Ad aprire la scuola Di emergenza Inizialmente I genitori Che minavano Con i loro figli Cioè che Lavoravano in miniera Avevano paura Che noi Volessimo Rapire i loro figli Per vendere gli organi Tutto questo per dire Che il non profit È diviso Tra realtà Che operano Con etica E che Apportano Dei cambiamenti Misurabili Un segmento Che è Caos Di gente Ben intenzionata Ma non equipaggiata Non formata E che fa A volte danni E a volte invece È inefficace E poi proprio Un segmento Di realtà Che sono proprio Dubbie Che ti chiedi Quale sia Il mandato Che giustifica Un investimento Magari di milioni In progetti Che sono Intangibili Che non hanno Consistenza Qui abbiamo affrontato Un tema anche Un po' scabroso Mondo delle ONG Delle non profit Umanitarie È pieno di Eroi Ma anche Tanta Sfiducia Perché c'è chi fa Danni Non bene Mario Giro La comunità di Sant'Egidio Fa anche Tanta Azione Umanitaria Cosa dobbiamo sapere In questo campo Innanzitutto Dobbiamo sapere Che La cosa importante Da fare È Come avete detto Formare gli africani Perché facciano loro Quindi le operazioni Umanitarie di Sant'Egidio Sono tutte Gestite da africani In Africa E questa è la cosa Fondamentale Le stesse comunità Di Sant'Egidio Africani Sono una realtà africana E si propongono Come una realtà africana Noi abbiamo in testa Ancora La vecchio sistema Che andava bene A un certo punto Che tu mandi medici Bianchi in Africa Magari li strapaghi Come fanno certe organizzazioni Li fanno benissimo Però la cosa importante È formare i medici africani Che stiano in Africa Ovviamente c'è sempre il rischio Di farseli rubare Perché organizzazioni Cacciatori di teste occidentali Vanno in giro Per l'Africa A rubare Infermieri e medici Perché hanno studiato Sugli stessi libri Di scuola Degli occidentali Quindi c'è sempre Questo rischio Però tu devi Fare Programmi E Metterli nelle mani Gli africani Per radicarli Nel futuro Dell'Africa Che siano Realtà africane Ottimo Una cosa che hai detto La vorrei commentare A proposito Della cattura Di talenti medici La metà Dei medici Del Burkina Faso In questo momento Lavorano In Inghilterra E negli Stati Uniti Quindi a volte Siamo colpevoli Di rapina Di talenti Ripartiamo Da Renzo Piano E dal suo racconto Della costruzione Dell'ospedale pediatrico Per emergency In Uganda Gli ho chiesto Che cosa ha capito Delle persone Con cui ha lavorato Sentiamolo Questa gente È assetata Impara Con una rapidità Pazzesca Abbiamo cominciato Questo cantiere Che era bellissimo Io ho delle fotografie Di questo cantiere Ma non è mica Un cantiere Di disperanti A parte che un cantiere Sembra un luogo Fantastico Perché nasce L'orgoglio Di fare qualcosa Di unico No Nasce l'orgoglio Di costruire Un ospedale L'unico ospedale Nella zona Per i bambini Per i propri bambini E la gente Insomma La gente È stupido Parlare così Perché ci sono Ci sono persone E persone Ma io ho conosciuto Sono fortunato Ma ho conosciuto Praticamente Solo persone Piene di buona volontà E capaci di apprendere Con una rapidità Incredibile Sono fortunato Sarà che costruire Una bella cosa Specialmente Quando costruisci Una bella Mi è capitato Anche altrove Costruire dei ponti Ad esempio Hai sempre a che fare Con gente entusiasta Non mi è mai capitato Di costruire dei muri Ma temo Che sarebbe Meno Gente Meno entusiasta Credo E infine Ho chiesto A Venzo Piano Che cosa Si è portato Dietro Di quello Che Di questa esperienza Insomma Delle persone Con cui ha lavorato Sentiamolo Una sorta di felicità Di esistere Tra le mille difficoltà Per cui Io non riesco A capire Ma non sono Uno storico Non sono Nemmeno Un analista Io Ma Insomma Questa gente Ci sta bene A casa propria Se riesce A lavorare E se riesce A fare Le cose E c'è La libertà Anche Che è un regalo Che ho portato Via di lì Perché un architetto Deve essere libero Libero Intendiamoci libero Non libero Da vincoli I vincoli Sono strumenti Necessari Che sono anche Più benvenuti Ma libero Di immaginare Le cose migliori Che si possono immaginare E di questo sogno È stato possibile Quindi è un'esperienza Indimenticata Questa è una bella storia Di ascolto Di collaborazione Che non cala dall'alto E che non impone La propria visione Del mondo Però Però Invece Abbondano Gli infortuni Anche clamorosi In cui è caduta La cultura Nostra Dell'autocolpevolizzazione Dell'Occidente Quando si esporta Verso l'Africa E quello che è Divertente E interessante Io abito a New York Quindi sono In un osservatorio Particolare È Quante volte Queste incomprensioni Hanno avuto come protagonisti I neri afroamericani Verso Gli africani La comunità black Degli Stati Uniti È maestra Nel Fraintendere L'Africa È incapace Nel capire Gli africani E infatti Gli africani Che oggi Immigrano Negli Stati Uniti Di solito Non sono ben accolti Non sono trattati bene Dai black Statunitensi Lo ha raccontato In un bellissimo romanzo Divertentissimo Esilarante La grande scrittrice Nigeriana Cimananda Ngozi Adice Ecco Qui c'è Un siparietto Una scenetta Molto gustosa Questa è Leggera e divertente Che è stata ripresa Da Donatella Mulvoni In un Barbershop Cioè da un barbiere A Little Senegal A New York Tra un Africano E un Afroamericano Sentiamola Qui per fortuna siamo sul tono dello scherzo, però ci sono degli episodi che sono illuminanti dei malintesi culturali, ne voglio citare uno recente, è un personaggio, al centro di questo episodio c'è un personaggio che ha 5 mogli, una Rolls Royce da mezzo milione e sta recuperando opere d'arte del valore di 30 miliardi di dollari che furono rubate ai suoi antenati più di 125 anni fa. Alcune di queste opere d'arte figuravano fino a poco tempo fa tra i tesori del Metropolitan Museum di New York, la città dove abito. Questo è uno scandalo denso di insegnamenti, sia sulla storia africana, sia sul modo in cui l'Occidente oggi sta cercando di espiare le sue colpe. Tutto lo scandalo è nato perché dei militanti proprio di Black Lives Matter a New York si oppongono alla restituzione di queste opere d'arte africane all'Africa, con un argomento forte. È vero che queste opere furono sottratte agli antenati di un attuale monarca africano, ma quegli antenati avevano accumulato le loro ricchezze attraverso il commercio degli schiavi. È la storia dei bronzi del Benin, non lo stato attuale del Benin, il re del Benin così si chiama in una regione della Nigeria. Questa storia va a toccare un tabù, un vero e proprio tabù che pochi statunitensi oggi oserebbero sfiorare, e cioè le profonde radici che lo schiavismo ha avuto nella storia antica del continente africano, molto prima che vi comparissero gli imperi europei. Il protagonista odierno di questa vicenda si chiama Oba Ewane II, il re del Benin. Vediamo la sua foto. Qui indossa i costumi tradizionali, ma qualche anno prima era funzionario alle Nazioni Unite e girava per New York in giacca e cravatta. La causa giudiziaria che punta a bloccare questa restituzione di opere d'arte dal Metropolitan Museum di New York al re del Benin è stata avviata da una ONG americana che si occupa proprio dei ritorni di opere d'arte nei loro luoghi d'origine in Africa ed è collegata al movimento antirazzista Black Lives Matter. Ascoltiamo le loro ragioni. Possiamo concentrarci sui 300 anni in cui il regno del Benin ha saccheggiato i nostri villaggi, ci ha derubato e venduto per avere il metallo necessario a fabbricare questi oggetti. E questo dato da solo dovrebbe far riflettere su qualsiasi decisione o disagio verso il fatto di appenderli al muro. Quei bronzi erano dove devono stare, perché la maggior parte dei discendenti degli africani schiavizzati dal regno del Benin è qui, negli Stati Uniti. Su 400 milioni di noi, il 93% ha un DNA proveniente dalla Nigeria. E ciò che sappiamo dallo studio dei dati sulla tratta transatlantica degli schiavi è che il regno del Benin controllava gran parte della costa coinvolta nella tratta degli schiavi, nell'area che oggi si chiama Nigeria. E sappiamo che gli inglesi erano impegnati nella colonizzazione dell'Africa, ma il colonialismo fu possibile solo perché il regno del Benin vendette tutti i suoi guerrieri più forti ai mercanti di schiavi europei, compresi i loro partner commerciali, gli inglesi. La vicenda può sembrare molto molto complicata, però al cuore c'è quindi un movimento che rappresenta gli interessi dei discendenti di schiavi africani che oggi sono black statunitensi, che si oppongono alla restituzione di opere d'arte a un re del Benin, oggi provincia della Nigeria, il quale viene da una dinastia, un impero, erano sovrani di un grande impero africano arricchiti con il commercio di carne umana, con la tratta degli schiavi. Questa causa giudiziaria infrange veramente un tabù, cioè apre uno squarcio su una realtà storica che nessuno si sognerebbe oggi di insegnare in una scuola pubblica americana o in una università americana, dove lo schiavismo viene visto solo come una piaga della razza bianca. Invece no, lo schiavismo era un sistema economico profondamente radicato nella storia antica dell'Africa, l'Africa ebbe i suoi imperi, grandi imperi, l'impero del Benin era uno di questi. molto prima che arrivassero i nostri a conquistarli, i loro sistemi economici si fondavano in larga parte sullo schiavismo e lo scambio di esseri umani a fine di lucro purtroppo era una piaga antichissima, con radici molto profonde, tutt'altro che importato. Mario Giro, questo ci porta a toccare un tema che tra l'altro andrebbe perfino allargato al ruolo che ebbero gli arabi, gli ottomani sul commercio degli schiavi. Io sono stato ancora di recente in Arabia Saudita, ho scoperto, avrei dovuto saperlo prima, ma che nelle leggi saudite lo schiavismo è stato abolito nel 1962, 1-9-6-2, però non se ne parla da noi di questo, siamo solo noi gli schiavisti. E in Mauritania anche dopo. No, nelle università europee, io devo dire, invece di questo si studia. Ci sono tanti fatti rispetto a tutto quello che è successo durante la colonizzazione dell'Africa e il commercio degli schiavi ebbe sempre dei complici africani, sempre, in tutta la costa, sia la tratta occidentale che quella orientale. E questo ha creato una gerarchia che già esisteva in parte tra le tribù africane. Prima dell'arrivo degli occidentali esisteva una forma di schiavismo diversa da quella nostra perché era più una servitù a vita, quindi simile in questo, ma non, diciamo, mirata alla produzione di qualcosa. Quando tu perdevi una guerra, finivi schiavo per tutta la vita. E questo ha creato delle differenze etniche. Ci sono delle etnie che si sono create attraverso queste differenziazioni. Ebbene, ci sono state in Africa delle organizzazioni che sulla base dell'antica schiavitù hanno chiesto di essere riconosciute come etnie di nuovo conio in base a quella vecchia storia. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scordarci e quindi far finta di niente, color blinded, come si dice in America, oppure invece insistere sulle differenze, come si fa adesso. Ognuna delle due scelte ha i suoi difetti, soprattutto se portate agli estremi. E oggi siamo in un momento molto identitario in cui si estremizza molto. Giusto, io adesso voglio raccontarvi un altro caso di cortocircuito, malinteso, incomprensione tra la cultura del politicamente corretto e l'Africa. Secondo voi Cleopatra è nera? Era nera? No, naturalmente no, Cleopatra era molto bianca anche perché veniva da una dinastia di faraoni di origine addirittura macedone, quindi europea. Ma quando la Hollywood, politicamente corretta, dove contano molto le elite black, afroamericane, deve mettere in scena nel 2023 la storia di Cleopatra, naturalmente il top management americano di Netflix decide di farne un'eroina della causa black, del African pride, l'orgoglio africano, e sceglie un'attrice nera. Ora, il problema è che i prodotti culturali americani viaggiano, si esportano, hanno diffusione globale e la cultura politicamente corretta, promossa dalle elite USA, atterra su mercati che sono poco ricettivi, poco inclini ad accogliere questo nuovo indottrinamento ideologico. Un rigetto simile era accaduto in Tunisia, quando da Hollywood gli è arrivato un film su Annibale interpretato da Denzel Washington, nero, no, neanche Annibale era nero, e i tunisini ci sono rimasti molto male, ma voglio tornare all'Egitto e a Cleopatra. Cleopatra Black, interpretata da un'attrice nera, è stata percepita come un'offesa, uno scandalo nazionale, ha scatenato un rigetto di massa contro il dogmatismo dei poteri dominanti negli Stati Uniti. Il Cairo ha preso le distanze dall'America, sia a livello governativo che del pubblico, su questo tentativo di manipolare la sua storia attraverso il colore della carnagione della faraona Cleopatra. Tra le ragioni per cui il soft power americano, cioè l'egemonia culturale americana in crisi in Africa, c'è poi anche l'estremismo dell'establishment che comanda Hollywood, né la Silicon Valley, dove ha sede Netflix, né i social, né i giornali, né le televisioni, sia a New York che a Washington. Solo l'America dell'antirazzismo totalitario, versione 2023, poteva imporre una Cleopatra nera e pensare di farla franca nel resto del mondo. La protesta dal basso in Egitto è stata veramente travolgente. Netflix in Egitto ha dovuto addirittura chiudere i commenti sul suo sito online, talmente era intasato dalle contestazioni. L'affaire Cleopatra è interessante per tante ragioni, anche per quello che ci insegna, o ci rivela, sui rapporti tra l'Africa a nord del Sahara e l'Africa subsahariana. Perché il razzismo esiste anche in Africa, tra africani, e per gli egiziani l'idea che Cleopatra potesse essere nera è addirittura percepita come una vergogna nazionale. Su questo vorrei sentire di nuovo Mario Giro, cioè smettiamola di raccontarci la balla che solo noi bianchi siamo razzisti. Ma non è mai stato così, in realtà purtroppo il razzismo è una malattia globale e devo dire che l'Africa del nord non si percepisce Africa, in realtà. L'Africa del nord si percepisce araba, fa parte del mondo arabo e sì, fa parte geograficamente dell'Africa, ma è un mondo molto diverso, molto a sé stante. Infatti la polemica su Cleopatra ha colpito i paesi arabi, molto meno l'Europa, in cui è passata quasi... non ce ne siamo quasi accorti. Ed è vero che nella storia le relazioni tra i popoli arabi e i popoli subsahariani è stata anche una storia dura. C'è stata la tratta orientale, che è durata più a lungo della tratta occidentale e ancora oggi ci sono alcuni paesi in cui, diciamo, una certa servitù è, non dico ammessa, ma tollerata sotto sotto. E sono paesi tendenzialmente arabi. Ora, questo vuol dire che gli arabi sono in particolare più razzisti degli altri? No. Però che il razzismo esiste anche a quelle latitudini. Così come quello che noi chiamiamo guerre etniche, spesso in Africa subsahariana, all'interno del mondo subsahariano, può anche essere... Ci sono anche degli stereotipi e delle malevolenze tra vari popoli. Pensiamo al Sudafrica, abbiamo parlato del Sudafrica, gli Zulu con gli altri popoli, non è che si sono sempre amati. Chiaramente questo diventa per noi europei, per noi bianchi, qualcosa di più pesante da portare perché noi facciamo un altro discorso, i diritti umani, eccetera, e gli altri ci giudicano secondo il nostro discorso, non tanto secondo quello che accade. Quindi quello che è in crisi è un po' il doppio standard, direi. Il doppio standard non è più ammesso. Ecco perché si criticano l'Occidente più facilmente delle critiche agli altri. Ma non è che gli africani neri non sappiano che c'è uno stigma su di essi anche da parte degli altri popoli o delle altre civiltà. Nelle lingue africane non esiste giallo, per esempio, esiste bianco e nero e anche i cinesi sono bianchi. Molto interessante. Tra l'altro, a conferma di quello che hai appena detto, mentre tra egiziani e Africa subsahariana si può anche evocare la differenza del colore di carnagione, a me è capitato in Sudafrica di vedere il razzismo tra i neri. Ogni volta che salivo su un taxi, di solito il guidatore era dello Zimbabwe e cominciava a sfogarsi sul razzismo dei sudafricani Zulu. Assolutamente. Colore della carnagione identica, ma razzismo lo stesso. Su questo vorrei sentire voi. Se avete, intanto se qualcuno di voi avrà sentito parlare dell'episodio Cleopatra Nera e poi se avete voi qualcosa da raccontare, qualche aneddoto, qualche episodio che incroci questa tematica del razzismo. Prego. Sono Nicola Iascone e studio all'Università di Bologna. Volevo intervenire perché non ho un aneddoto in particolare da raccontare però penso che avevo seguito abbastanza da vicino la questione quando era uscita anche se in Italia non gli è stata data particolare rilevanza mediatica perché è un tema particolarmente interessante, secondo me è uno tra i più polarizzanti oggi per quanto riguarda i dibattiti a sfondo sociale. Credo che l'eccesso di politicamente corretto che ogni tanto si può constatare soprattutto per quanto riguarda la sinistra più americana che è europea però comunque sicuramente ha una presenza molto forte anche da noi sia abbia sicuramente delle finalità nobili, cioè quella della lotta al razzismo che è assolutamente auspicabile in ogni sua, appunto per le finalità che cerchi di raggiungere ma allo stesso tempo credo che il problema stia nel discorso da fare sul metodo penso che un atteggiamento intransigente e non molto aperto al dialogo come quello appunto dell'eccesso di politicamente corretto della paura paranoica di confronto al razzismo non sia particolarmente adatto ecco perché secondo me è un atteggiamento più unificatorio, più appunto più comprensivo sarebbe più auspicabile, ovviamente non in ogni caso. Grazie. Grazie. Altre su questo tema? Prego. Sono Daro Sacco, sono italo-senegalese, ci sono stati tanti spunti nell'ultimo intervento però volevo tornare un attimo al discorso sugli afroamericani versus africani. Ecco, noi spessissimo in Italia e in Europa l'abbiamo visto anche con le Black History Month attuale oppure tutte le battaglie del Black Lives Matter che noi spesso riportiamo agli Stati Uniti. Noi in Italia abbiamo una storia legata agli africani molto diversa da quella che si ha negli Stati Uniti e ci confrontavamo prima, notavamo come appunto gli afroamericani si definiscono tali perché non sanno spesso qual è la loro origine in Africa. Ecco, in Italia le persone africane sanno esattamente da dove vengono. Musa prima di me appunto parlava e parlava dei suoi coetanei africani. Mio padre quando è arrivato in Italia sapeva benissimo quali erano le sue radici. Ecco, questo per dire che secondo me dovremmo iniziare a fare delle riflessioni anche su quella che è la presenza africana in Italia che è molto diversa da quella che c'è negli Stati Uniti. Per il tipo di storia che abbiamo, l'Italia ha un passato coloniale di cui pochissimo si parla. Nei libri di scuola sono poche righe e penso che molte persone qui non sappiano che cosa ha portato l'Italia in Africa durante la sua espansione coloniale. Quindi ecco, l'invito è quello di tornare un po' a parlare di che cos'è l'Africa in Italia, chi sono le persone africane in Italia e staccarci un po' da quello che ci viene comunque proiettato dagli Stati Uniti attraverso la loro cultura che comunque è quella in cui un po' tutti siamo cresciuti qua in Italia. E mi collego a Nicola prima per dire che ci sono tantissime parole che noi usiamo nella nostra lingua italiana che abbiamo tradotto in modo errato dall'inglese e mi riferisco per esempio all'espressione di colore. Io non sono una persona di colore, sono una persona nera. Di colore è una traduzione da colored. Colored in Sudafrica erano le persone come me che hanno magari una parte bianca e una parte nera ed era una divisione della società data per dividere a livello razziale, quindi poi socio-economico, le persone che abitavano la stessa società. Quindi molta attenzione al linguaggio. Il mio consiglio è chiedere alle persone come vogliono essere definite. C'è chi comunque nella comunità nera continua a volersi definire di colore, non c'è alcun problema. Comunichiamo e appunto andiamo a risolvere anche quel problema del politicamente corretto estremamente stringente che di fatto non ci porta a risolvere la questione. Grazie. Grazie. A tra poco, dopo la pubblicità. Bentornati. La prima cosa di cui ti accorgi quando arrivi in Sudafrica sono i blackout elettrici. La corrente va via, la luce si spegne in continuazione. I sudafricani non ne possono più delle nostre prediche ambientaliste. Sostengono che noi gli stiamo rendendo la vita ancora più difficile. Perché? Perché ad esempio funzionari della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, ormai indottrinati dall'ambientalismo radicale dell'Occidente, finanziano progetti energetici in Sudafrica solo se sono verdi, energie rinnovabili. Ma i sudafricani ci dicono che le energie rinnovabili non bastano. Noi abbiamo bisogno anche di usare il nostro carbone. Puntano il dito contro la nostra ipocrisia. Osservano che quando c'è stata la guerra in Ucraina e improvvisamente la Germania ha smesso di importare gas russo, i tedeschi sono andati in Sudafrica a comprare il loro carbone per le centrali elettriche della Germania. Non è possibile immaginare per l'Africa una transizione velocissima, istantanea, dalle energie fossili al tutto rinnovabile. Su questo ho chiesto un parere a un esperto di energia, Chico Testa. Ascoltiamolo. Partiamo con il dire che l'80% dell'energia nel mondo è ancora prodotta con fonti fossili. E questo riguarda anche fondamentalmente l'Europa. Perché? Perché le fonti fossili sono quelle dal costo più basso e dal rendimento più alto. Quindi pensare che la crescita energetica dell'Africa possa avvenire senza usare fonti fossili è completamente illusorio. C'è poi un secondo motivo. Molti paesi africani sono esportatori di fonti energetiche primarie per una percentuale molto importante del loro PIL. Posso fare degli esempi. La Libia sta al 56% del PIL fatto con fonti fossili. L'Algeria sta al 15%. L'Angola sta al 28%. Il Congo al 34% del PIL domestico fatto con fonti fossili. Quindi eliminare le fonti fossili significa togliere un'entrata importantissima e dover riconvertire ulteriormente un'economia di alcuni paesi africani che peraltro sono paesi poverissimi. Quindi sia sul lato dei consumi l'Africa ha bisogno di produrre energia anche con fonti fossili. E dal lato invece del prodotto interno lordo, essendo esportatori, significa dover riconvertire completamente le loro economie. E allora torniamo al nostro piano Mattei e alla nuova centralità dell'Africa anche nella lotta al cambiamento climatico. Sentiamo ancora Guido Brusco, direttore generale Natural Resources di Eni. L'Africa avrà un ruolo centrale anche nella transizione energetica. In primo luogo attraverso progetti rinnovabili. Progetti rinnovabili che andranno ad alimentare l'industria locale quando in eccesso a garantire l'export verso l'Europa. Ma anche attraverso progetti agricoli per lo sviluppo di olio vegetale che contribuirà poi alla produzione di biocarburanti. Che sono un elemento essenziale nella transizione e nell'evoluzione del trasporto. Ma non è solo questo il contributo alla transizione dell'Africa. Stiamo valutando anche progetti di cattura e di stoccaggio dell'anidride carbonica per decarbonizzare i cosiddetti settori hard to abate. E anche progetti per lo sviluppo dell'idrogeno. Crediamo che questo sia l'unico modello di transizione sostenibile. Una transizione che guarda anche all'elemento sociale e all'elemento economico. Perché certo non possiamo imporre a paesi in cui si fa ancora largo uso della lignite per riscaldare le case e per cucinare. E in cui le reti elettriche non raggiungono vaste aree di questi paesi. Non possiamo certo imporgli di passare in maniera automatica alla parte più tecnologicamente complessa e costosa della transizione. Qui abbiamo sentito pronunciare la parola biocarburanti, cioè carburanti prodotti dall'agricoltura. E l'agricoltura è un altro tasto dolente nei nostri rapporti con l'Africa. L'Africa deve vedersela con la scarsità o il caro prezzo dei fertilizzanti. I fertilizzanti sono prodotti da energie fossili, vengono dal petrolio. La guerra in Ucraina anche qui ha rappresentato un problema molto serio per i paesi africani. L'alternativa dell'agricoltura biologica, molto popolare tra di noi, è un lusso che non viene preso sul serio da chi ha conoscenze sul campo. E ce lo conferma un agronomo italiano, Antonio Pascale. Ascoltiamolo. L'episodio che ricordo molto bene è avvenuto in un convegno di agronomi tanti anni fa, dove appunto molti agronomi occidentali cercano di dare lezioni agli agronomi africani su come gestire i terreni, come coltivare. E a un certo punto un agronomo africano si alzò e mostrò un sacchetto con una polverina bianca, naturalmente terrore in sala, questo ci sta mostrando la cocaina, invece no, era un concime da potassio. E ci voleva dire a noi serve questa roba qua, servono i fertilizzanti altrimenti la produzione. non va avanti, ecco, è una grande metafora insomma che ci voleva raccontare l'agronomo, cioè noi siamo passati da Pinocchio a Masterchef nel giro di una generazione, non ce ne rendiamo conto, uso Pinocchio e Masterchef come ad esempio i due paesi, Pinocchio è il paese della povertà, della fame. Masterchef cos'altro è se non il reno dell'abbondanza? Le cuschine di Masterchef sono piedi a ogni ben d'indio. Il paese di Pinocchio è durato 10.000 anni, noi abbiamo i dati su questo, la produzione di cereali è stata una tonnellata ettaro a fine impera romano ed era ancora una tonnellata ettaro all'inizio del Novecento. Ora molti stati africani, non tutti, diciamo quelli sub-sarayani, sono ancora nel paese di Pinocchio, cioè lavorano tanto la terra e producono poco. Loro dovranno fare lo stesso percorso che noi abbiamo fatto e si spera, lo facciano meglio, innovando, si può fare con calma, ce la faremo. Senza fertilizzanti chimici non si nutrono un miliardo e mezzo di africani. Ma quando noi andiamo a investire in Africa nel settore delle materie prime, possiamo anche contribuire allo sviluppo dell'economia locale? Vediamo qual è la risposta a questa domanda data dall'ENI, Francesca Ciardiello, responsabile sviluppo sostenibile dell'ENI. Si tratta di un investimento di lungo periodo e ci muoviamo su diversi piani. Innanzitutto partiamo dall'investimento sulle persone, perché possano essere protagoniste del sviluppo delle risorse naturali dei loro paesi. Chiaramente ci muoviamo sull'accesso all'energia, facendo in modo che le risorse siano messe a disposizione e disponibili sul mercato locale per sostenere non solo l'accesso ai servizi essenziali, ma anche lo sviluppo economico. Nel caso della Repubblica del Congo abbiamo realizzato, in collaborazione con i nostri partner, una centrale elettrica che oggi rappresenta la maggior parte della produzione elettrica del paese. ed infine lavoriamo per contribuire all'opportunità di sviluppo nelle comunità che sono presenti intorno o nelle prossimità delle nostre attività, intervenendo sulla base della lettura del contesto e del dialogo con le istituzioni e con le persone, affinché si possa comprendere quali sono le esigenze considerate come primarie di maggior interesse. Io vorrei concludere questa puntata africana e questa serie con un invito e una citazione. L'invito è quello a non esprimere giudizi sommari sull'Africa. Voglio anche ricordarvi a conclusione una severa profezia di Nelson Mandela. Ecco cosa disse Mandela ai suoi concittadini. Se un giorno i capi politici dell'African National Congress si comporteranno come i bianchi, voi dovete trattarli come abbiamo trattato i bianchi. Ecco, è ora che noi impariamo, tutti noi, a usare la stessa lucidità e imparzialità di Nelson Mandela. Io in Sudafrica ho incontrato dei compagni di lotte di Mandela che oggi vengono chiamati i Black Diamonds, i diamanti neri, perché vivono nel lusso, grazie alla corruzione. Da quando l'Occidente ha abbracciato la cultura degli aiuti umanitari, abbiamo versato all'Africa, sotto forma di donazioni, 20 volte il valore del piano Marshall, quello con cui gli americani finanziarono la ricostruzione dell'Europa post-bellica. Ebbene, troppa parte di quella ricchezza è stata trafugata da classi dirigenti locali corrotte e rapaci. L'Africa non ha bisogno della nostra compassione, ha bisogno dei nostri investimenti, delle nostre imprese. Finisce qui la seconda stagione di inchieste da fermo. Io vorrei concludere con un paio di domande a voi. Una a Mario Giro. Mario, per la prossima serie di inchieste da fermo di che paese mi dovrei occupare? Secondo me dei paesi del Golfo, dell'Arabia Saudita. Secondo me l'Arabia Saudita sta diventando un attore globale e in Asia sicuramente dell'Indonesia. Sull'Arabia Saudita mi hai letto nel pensiero, ci sono appena stato. Qualcun altro mi suggerisce di che paese mi dovrei occupare nella prossima serie? Prego. Salve, mi chiamo Arianna Medeggeru e alla lista aggiungerei il Messico. Perché il Messico? Beh, perché penso che dopo il Covid, con la guerra economica tra Cina e Stati Uniti, molte aziende si stanno trasferendo in Messico. c'è un fenomeno molto acceso di neershoring. E banalmente pensando anche a Elon Musk, che ha annunciato di fare l'investimento più grande mai fatto in Messico nei prossimi anni. Grazie per il suggerimento, grazie a Mario Giro, grazie a tutti gli studenti che ci hanno accompagnato in queste quattro puntate. Grazie a tutti i nostri spettatori.